Carabeo, io inizierei da lei perché sulla questione del nucleo industriale di Sene Venafro, ma poi in maniera particolare sulla questione geomeccanica, lei era intervenuto in tempi diciamo così lontani, non sospetti da quanto e da quello che sarebbe poi successo dopo, non era un discorso di sfera di cristallo? Assolutamente no, la verità è venuta fuori da numeri, da numeri inconfutabili, è chiaro che nell'estate dell'anno scorso c'è stato un tentativo che ho definito anche maldestro sotto certi aspetti e inopportuno da parte della dirigenza, nel caso specifico da parte del presidente della geomeccanica a cercare di tenere ancora velate e sommerse determinate verità, dicendo che la mia era in quel momento una presa di posizione politica, quando poi di politico non c'è nulla, anche perché ero stato sollecitato nel caso specifico da diversi fornitori di beni e di servizi e dalle maestranze, da buona parte delle maestranze e mi si diceva pure che quel mio tipo di atteggiamento poteva nuocere gravemente a quello che era un mercato in netta ripresa per quanto riguarda il discorso geomeccanico. La situazione poi è precipitata purtroppo, devo dire, nostro malgrado e ho avuto modo di poter acquisire ulteriori elementi che hanno reso ancora più preoccupante e con profonda sincerità lo dico, irrecuperabile il discorso geomeccanico. Un discorso che è nato negli anni passati in maniera dignitosa attraverso la vecchia sigla, la vecchia società, la vecchia società per azioni che era la CMV che poi è stata trasformata in geomeccanica SRL. Una società che negli anni passati era una grande officina, io definisco artigianale anche perché l'industria è ben altra cosa, che in maniera abbastanza dignitosa si difendeva sul mercato. Oggi quello che manca nella geomeccanica è un piano industriale serio e quello che manca sono anche le condizioni e le quotazioni di mercato appetibili per quelli che possono essere i vari gruppi imprenditoriali interessati al progetto geomeccanica, ma soprattutto quella che può essere un'utenza qualificata nelle grandi opere. E' chiaro che tutto questo preoccupa me, sia in qualità di consigliere regionale che in qualità di esponente di una determinata area, ma comunque tengo anche a precisare che stiamo parlando di un'azienda che ha un valore di produzione come anno 2009 di scarsi 8 milioni di euro con persone a libro matricola pari a 93. Sono dei parametri che qualsiasi imprenditore, qualsiasi esercente, qualsiasi operatore economico sa leggere da solo. Signor Scarabello, il consigliere romano però critica anche questo atteggiamento dell'aggiunta della sua maggioranza di entrare troppo spesso e con troppa facilità in queste situazioni. Guardi, per quanto mi riguarda io ho sempre fatto una precisazione, soprattutto esternato quello che è il mio pensiero in maniera abbastanza chiara. Io ritengo che la regione non debba intervenire ad personam o su delle aziende in maniera specifica, non deve fare impresa perché impresa la devono fare gli imprenditori, deve comunque in qualche modo poter attuare delle politiche a sostegno di determinate filiere, di determinati nuclei industriali, ma soprattutto in termini di omogeneità territoriale. Nel caso specifico della geomeccanica noi ci ritroviamo con una partecipazione indiretta da parte della regione molise, con una partecipazione pari al 35% del capitale sociale e parliamo di 5 milioni e 600 mila euro investiti in un'azienda, dove purtroppo, e questo bisogna dirlo senza i cosiddetti peli sulla lingua, non c'è stato un controllo responsabile da parte degli organi preposti. Oggi vedo tutta una serie di iniziative che da più parti vengono sbandierate, vengono tirate fuori per poter risollevare, per poter in qualche modo intervenire alla risoluzione della problematica geomeccanica. Però nel caso specifico, come ho detto in aula, e lo ripeto pure in questa sede, io vedo più delle azioni demagogiche, vedo più delle azioni populiste, vedo più delle azioni non riferite alla risoluzione reale del problema, ma solo ed esclusivamente per speculare e per continuare a speculare dal punto di vista politico. Questo lo dico sia nell'ambito di uno schieramento che nell'ambito dell'altro schieramento, non generalizzando mai, anche perché ci sono state e ci sono delle posizioni responsabili chiare e nette. Questo è un sistema che va in qualche modo frenato, vanno responsabilizzati gli addetti al controllo, i sindaci, quelli che in qualche modo vengono delegati dalla parte politica a partecipare nei vari consigli di amministrazione delle società partecipate dalla nostra regione e nello stesso tempo ritengo, e questo l'abbiamo inserito all'interno dell'ordine del giorno, che questi professionisti debbano anche loro, a loro volta, dare delle garanzie alla nostra regione. Scarabbeo, un atto di accusa nei confronti di questa maggioranza e soprattutto un richiamo, poi quello che faceva il consigliere romano a situazioni un poco particolari, se voglia. Io penso che il collega romano forse faceva riferimento a quelle che sono state delle dichiarazioni oggettive pubbliche rese dall'assessore alle attività produttive, Franco Giorgio Marinelli, sull'ultima elargizione che in qualche modo ha creato pure un po' di scompiglio in aula alla geomeccanica nel mese di ottobre del 2006. Io ritengo che sia stato il saldo dovuto per l'arco temporale, anche sotto certi aspetti, forse una mera coincidenza. Per quanto concerne le partecipazioni, io ripeto di non essere proprio d'accordo nel mio modo di vedere lo sviluppo territoriale e soprattutto il modo di concepire quella che è la cosa pubblica, ma ritengo pure che sia un problema che viene da lontano. Noi negli anni passati, quindi non è un problema che proviene da due anni, tre anni, cinque anni, dieci anni, noi negli anni passati non abbiamo avuto mai modo, ritengo, in qualche maniera di vedere in maniera chiara quello che poteva essere lo sviluppo della nostra regione da Termoli a Venafro. Sono stati commessi degli errori, degli errori che poi in qualche modo hanno portato a dover mettere delle pezze, riportato a dover mettere delle pezze di un certo tipo e di un certo peso nelle varie aziende di riferimento, soprattutto le partecipate. Oggi il problema molise non è un problema prettamente molisano dal punto di vista economico, è una congiuntura italiana, è una congiuntura mondiale. Io ritengo pure che il sistema Italia non abbia funzionato negli ultimi decenni, non abbia funzionato perché abbiamo cercato come classe imprenditoriale, quindi di conseguenza anche dal punto di vista politico a mio modesto avviso, a marginare in maniera esagerata nei tempi buoni senza investire per il futuro in attesa pure di tempi meno luminosi e quindi meno buoni. È chiaro che oggi ci ritroviamo ad essere un paese, quindi parlo dell'intero territorio nazionale, un paese di consumatori dove purtroppo le entità e le identità industriali sono poche sull'intero territorio nazionale, ma cosa ancora più grave è che ci ritroviamo ad essere solo ed esclusivamente un paese di consumatori. Vi dico pure che la stragrande maggioranza delle aziende multinazionali addirittura non ci vede neanche più come polo logistico perché preferisce sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista delle risorse umane, dell'economicità, del costo del lavoro andare a decolarizzare quelle che sono i cosiddetti poli logistici in altre parti d'Europa, sottraendoli proprio al territorio italiano. Quindi ritengo che il problema provenga da lontano, provenga da una forma mentis, devo dire, italiana, non generalizzo mai, ma della stragrande maggioranza degli imprenditori e della classe politica, meno attenta al futuro e più attenta al presente. È chiaro che oggi ne stiamo pagando le conseguenze. Mi auguro che del resto ci sia un atto di responsabilità da parte di tutta quanta la classe dirigente del nostro paese, anche qui nella nostra regione, e in qualche modo cambi quello che sia e quello che è l'atteggiamento nei confronti dell'impresa, dell'imprenditoria e dello sviluppo socio-economico di questa regione.